Monteparano, primo comune della provincia di Taranto ad inaugurare le festività natalizie, anche quest'anno la sera che precede Santa Cecilia, con l'omonima orchestra di fiati diretta dal maestro Giuseppe Gregucci. L'imministrazione comunale ha voluto introdurre Santa Cecilia già dalla sera prima, quindi con un'attesa alla notte più lunghe dell'anno. Con quale differenza si vive Santa Cecilia, comuni della provincia? Siamo comunque accomunati da questa bella tradizione delle pastorali tarantine, a iniziare da Santa Cecilia fino al giorno dell'Epifania, un po' dappertutto risuonano queste musiche, appartengono un po' a tutti, anche se in città è forse più sentita, ma anche perché la città è più grande a livello di densità demografica e c'è più attaccamento ai riti, a differenza magari dei paesi della provincia. Il sindaco Maristella Carabotto ha messo personalmente le mani in pasta e preparato le tradizionali pettole per i suoi concittadini. Con l'accensione dell'albero noi abbiamo voluto accendere una speranza, lasciandoci dietro il 2022 con la speranza che il 2023 sia un anno migliore per tutti.